Grande fratello Lino Giuliano concorrente ufficiale, i commenti al vetriolo di Cristina Plevani la ex Alessia. La conferma che Lino Giuliano è uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello ha scatenato un'ondata di commenti e reazioni non esattamente positive. Non è mancata la reazione di Alessia Pascarella e Cristina Plevani vincitrice del Grande fratello 1. E' au possibile che gli autori cerchino di ricreare una citazione modello Mirko Brunetti e Per Lavatiero, ma di sicuro questo ingresso fa discutere. In ogni modo è anche possibile che anche Alessia Pascarella e Maika Randazzo parteciperanno a questa edizione del programma. Non sono passati inosservati i commenti ironici Cristina Plevani, concorrente e vincitrice della prima edizione del GF, la quale non si è fatta remore a dire come la pensava, ricordiamo che la stessa era impregiudicato di partecipare al programma questo anno e ha dichiarato. E la gente me ne ha scritte di ogni quando girava la fake news che mi faceva come concorrente. Vi meritate questi concorrenti. Ovviamente non è mancata nemmeno la reazione di Alessia ex fidanzata forse ancora più a udura. Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno, infortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche puntini puntini.